John Bourne ragazzi, John Bourne benvenuti in questo nuovo video, benvenuti, ve l'ho portato lo scorso anno, ve l'ho portato anche quest'anno la tier list della serie A, della nuova serie A, della serie A 2023-2024 però ragazzi vi lancio una sfida, vi lancio una sfida, se questo video arriva a 4000 mi piace, dovete fare 4000 mi piace, non ci vuole tanto, cioè basta che i primi 4 che guardano questo video mettono tutti i mi piace, 4000 mi piace e vi porto la tier list delle squadre di serie A, quindi queste qua sotto, ma per simpatia, cioè quindi alcune ho maturato una simpatia, alcune l'ho smaturata e sarò terribilmente onesto, ma terribilmente onesto la seconda cosa che vi dico è che se invece lasciate 5000 mi piace, 5000, vi porto la tier list della serie B, perché so che vi gasa da morire la serie B che tra poco inizierà, tra poco per modo di dire, e quindi, e quindi ragazzi vi posso portare anche la tier list della serie B, ma questo dipenderà da voi, se la volete 5000 mi piace sotto questo contenuto per sbloccare il contenuto consecutivo, il contenuto di seguito detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, arriviamo a mezzo miliardo di iscritti, mezzo milione, e noi partiamo subito allora vi leggo un attimo i gradini della tier list, il gradino più in alto, cioè quello peggiore di tutti è Mando a Namo ora voglio, diciamo, precisare una cosa prima che iniziate a dire, eh vabbè Sik però dai ma come ti permetti Mando a Namo non vuol dire, cioè vorrebbe dire tipo siamo spacciati, però vuol dire lotto per sostanzialmente non retrocedere, ok? cioè, lotto per salvarmi, cioè nel senso non credo che nessuna di queste squadre che vedete qua sotto sia spacciata però il tassello rosso, perché tutte più o meno se la possono giocare, però il tassello rosso secondo me è il tassello relativo alle squadre che giocheranno per strappare la salvezza quindi ovviamente i nomi magari sono anche simpatici, però poi non ve la state a prendere a male perché finisce lì poi se va volete prendere, prendetevela in der Q no, detto questo, detto questo, secondo pallino quello arancione è mega carcazzo che cos'è? Mega carcazzo, mega carcazzo è semplicemente quel gradino in cui ci mettiamo quelle squadre che a loro non gli devi dare fastidio non gli devi dare fastidio loro si salvano a spasso, arrivano a fare 35 punti dopo 25 partite e poi le ultime 12, 13, 15 partite invece di scendere in campo giocano a briscola ecco, ci sono tante squadre che fanno parte del mega carcazzo e quest'anno ce ne sono ancora di più quindi, no, non lo so quante ce ne sono, non è che ho fatto una cernita però sono quelle squadre che secondo me ambiscono ad arrivare nella parte medio alta della parte destra della classifica quindi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo posto oppure anche squadre che magari arrivano decime, undicesime però staccano la spina dopo aver fatto un girone d'andata da Champions League staccano la spina e dicono se ti va a te fai quello che devi fare ma a me, mega carcazzo ecco, questo qua faccio anche un altro, metto anche un altro asterisco diciamo che questa non è poi la mia prediction cioè, io posso tranquillamente dire che è una squadra che fa parte del mega carcazzo ma poi la metto quarta quando andrò a fare la prediction perché poi la mia prediction scinde dall'idea di squadra e quindi personalmente, mi raccomando, è fondamentale questa cosa qua è fondamentale questa cosa qua, mi raccomando detto questo, arriviamo a noi e arriviamo al terzo tassello che è questo qua una cosa per volta una cosa per volta sono le squadre che stanno pian piano costruendo qualcosa che può essere primo ho fatto l'Europa, adesso faccio la Champions no, un po' meno primo ho fatto il decimo posto, adesso faccio la Conference sì primo ho fatto la Conference, adesso faccio l'Europa sì cioè, quelle squadre che adesso vogliono continuare a mettere i tasselli che se non dovessero arrivare in Champions non sarebbe niente di clamoroso però comunque sono quelle squadre lì quelle squadre che personalmente ci tengo a mettere in quella casella là detto ciò, c'è poi Vogola Shespions Vogola Shespions è tipo le squadre che mirano ad arrivare in Champions League che hanno l'obiettivo di arrivare in Champions se non ci arrivano non hanno fallito, a mio avviso però lo scudetto è troppo magari per loro lo scudetto è troppo quindi si tranquillizzerebbero arrivando in Champions decreterebbero l'obiettivo raggiunto prendendo la Champions League però non è da scudetto, non è una cosa per volta e poi c'è scudetto e sto chiaramente queste sono le squadre che hanno l'obbligo di puntare allo scudetto poi si può arrivare primi, secondi, terzi, quarti più sotto del quarto posto no però comunque queste squadre hanno a mio avviso l'obbligo l'obbligo di prendere lo scudetto di puntarci poi le cose si possono mettere in un determinato modo partiamo e partiamo dall'Ellas Verona io l'Ellas Verona lo metto in mando a Namo allora ve la spiego però come cosa io credo che quest'anno il Verona possa fare bene possa fare sicuramente meglio dello scorso anno non sia una squadra che di base va a puntare a salvarsi come si è salvata quest'anno per il rotto della cuffia credo che il Verona abbia buone possibilità di arrivare ad una salvezza anche abbastanza tranquilla quindi se potessi mettere metterei in mega carcazzo però non credo che il Verona sia una compagine che quest'anno si salverà a febbraio cioè penso comunque che magari si salverà poi vedremo, valuteremo, faremo le nostre valutazioni tireremo le nostre somme però faticando e quindi la metto in mando a Namo cioè in quel range di squadre che si lotteranno la salvezza comunque almeno fino ad aprile fino a fine aprile ecco fino a fine aprile si lotteranno la salvezza e forse anche i primi di maggio il Verona va lì Verona che insomma ha perso tanto prima con Juric poi con Tudor ma non ha mai avuto grosse intenzioni credo io di rinforzarsi quella cosa non ce l'ha mai avuta e quindi è normale che poi piano piano giorno dopo giorno prima eri una cosa per volta poi eri in mega carcazzo poi eri in mando a Namo piano piano è normale secondo me che scendi nelle gerarchie e arrivi lì dove sei arrivato la Roma la Roma la Roma la vado a mettere in voglio la Champions è chiaramente è così ragazzi cioè allora una cosa per volta anche basta cioè la Roma l'ha platinata l'Europa League sono cent'anni che andiamo in Europa League la Roma deve andare in Champions League ha l'obiettivo tra l'altro la Roma la maglia è di Cristante se vi interessa la Roma ha l'obiettivo di andare in UEFA Champions League e questo è l'ultimo anno di Murigno l'obiettivo finale di Murigno era quello di riportare la Roma in Champions quindi la Roma chiaramente ha quell'obiettivo lì chiaramente deve arrivare in Champions mi sorprenderei vi dico la verità mi sorprenderei se alla fine dei tre anni Murigno non arrivasse in Champions sebbene credo che anche quest'anno abbia almeno 4-5 squadre sopra però l'obiettivo deve essere quello per me non c'è nient'altro che quell'obiettivo lì per la Roma se non ci arrivi personalmente credo che tu abbia almeno questo sì credo che tu abbia fallito detto ciò ripeto ci saranno squadre più forti della Roma in questo campionato a mio avviso sì a mio avviso sì però comunque dai dai credo che comunque voglio la Champions voglio la Champions la Champions l'ho fatto apposchi perlo così chiaramente è il tassello giusto per la Roma e credo che sia il tassello giusto anche per l'Atalanta allora l'Atalanta lo scorso anno non questa stagione quella prima ha rischiato un forte ridimensionamento arrivando ottava eppure è riuscita con consapevolezza con caparbietà con il cambio generazionale passando da Duvan a Oilund passando da Muriel a Lukman c'è riuscita arrivando a schierare Cup Miners in mezzo al campo adesso ha cambiato tutte e due le ali ha preso diversi calciatori forti Baccar ne ha presi di calciatori validi ecco credo che l'Atalanta voglia puntare alla Champions se dovessi metterla in una griglia di tier list io l'Atalanta la metto in voglio la Champions poi chiaramente si può anche pensare che l'Atalanta non ci arrivi perché poi vedrete che ci sono diverse squadre nei primi due tasselli però nella mia griglia l'Atalanta parte da seconda fascia non parte da prima fascia parte nella fascia della Roma Cagliari allora 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 faccio fatica perché tutto mi porterebbe a dire che il Cagliari devo metterlo in mando a namo perché è una neopromossa però non lo penso cioè io penso che il Cagliari abbia la squadra per arrivare in meca carcazzo cioè il Cagliari abbia una rosa già ce l'aveva in serie A quando è retrocessa ce l'aveva in serie B l'anno scorso e ha rischiato di comunque non venire su per qualche errore durante l'anno poi ha preso Ranieri ragazzi il Cagliari a Ranieri cioè io stasera ve la voglio sottolineare il Cagliari a Ranieri per me il Cagliari si può salvare cioè per me per me non sarebbe così strano se alla fine della fiera infatti sto buttando tutto per terra me casca l'acqua ma che è se alla fine della fiera il Cagliari si salvasse con facilità per me questo accadrà il Cagliari lo vedo come una squadra che farà una buonissima prima parte di stagione è secondo me la squadra che come posso dire la miglior neopromossa della Serie A la grande sorpresa poi alla fine chiuderà parte media della posizione media della parte destra della classifica non è che c'è tredicesimo quattordicesimo quindicesimo posto siamo lì però credo che il Cagliari non rischi tanto la retrocessione anzi penso che sia un po' più la sorpresa secondo me invece a mando a Namo ci vado a mettere l'Empoli lo so che per voi sarà una grande sorpresa tipo no Sik ma perché ci metti l'Empoli dai ma l'Empoli ogni anno è proprio negli ultimi anni è stato proprio l'esempio del mega carcazzo cioè della squadra che fa un'ottima prima parte di campionato e poi molla è vero è vero però più vanno avanti le stagioni più le squadre che devono retrocedere retrocedere o no ricordiamo che l'ultimo sono scese Cremonese Spezia e Samp Samp va bene ma Cremonese e Spezia sono due squadre che non investivano mai o quasi mai lo Spezia un po' sì Cremonese non ha investito per niente però lo Spezia si stava ridimensionando tanto e piano piano le squadre che salgono in A sono sempre le piazze un po' più importanti cioè se in queste squadre che vedi sotto ci levi ad esempio il Frosinone e ci metti un Palermo o un Parma o un Bari sono tutte squadre e tecnicamente dovresti levare anche il Lecce sulla carta diciamo se levi a livello storico recente Lecce e Frosinone e ci metti Parma e Palermo ecco io non saprei chi metterti in mando a Namo l'Empoli comunque è una squadra che secondo me un po' perché non investe tanto un po' perché i migliori li vende un po' perché non ha una progettualità che mira ad arrivare a metà classifica quest'anno rischia di retrocedere e quindi la vado a mettere nel tassello più in basso in mando a Namo ecco quello è il tassello che secondo me l'Empoli in questo momento storico va a meritarsi l'Inter ragazzi ma che ve lo dico a fa Scudetto e sto allora l'Inter per me sulla carta poi bisognerà vedere perché poi il Milano ha fatto degli investimenti la Juventus non ha le coppie europee il Napoli è campione d'Italia però l'Inter per me è tra le grandi favorite per vincerlo Scudetto lo era quest'anno ha fatto una cosa come tipo 8 sconfitte poi però ha preso la Champions ha vinto la Coppa Italia ha vinto la Supercoppa Italiana ha fatto una finale di Champions la stagione di Inzaghi non può essere definita insufficiente però ciò non toglie che secondo me l'Inter deve vincerlo Scudetto la metto lì Scudetto e sto perché secondo me quello è proprio il range è proprio il range dell'Inter l'Inter che deve vincerlo Scudetto l'Inter che se va male va in Champions League l'Inter che cercherà di essere ancora una volta protagonista anche in Champions League che avrà l'obiettivo di vincere più trofei possibili ovviamente ragazzi quello è il tassello della sua tier list Fiorentina allora qua faccio un po' più di fatica la Fiorentina la metto ancora una volta in una cosa per volta perché? perché se quest'anno la Fiorentina fosse arrivata quinta o sesta forse l'avrei messa in voi o la Shespions diciamo che Commisso è un presidente un proprietario un patron che investe che spende soldi le ha spesi anche quest'anno l'Italiano è un allenatore che fa progressi però ancora una cosa per volta perché ragazzi da quando è arrivato l'Italiano da quando è arrivato Commisso la Fiorentina l'Europa League non l'ha mai giocata non l'ha giocata ai tempi della valle cioè quindi comunque ripeto una cosa per volta arrivare in Europa League molto molto bene ci può stare mi può andar bene in Conference League ma forse sì anche se poi quest'anno ci potrebbe entrare solamente se la Juventus i problemi della Juventus eccetera e detto questo e detto questo sottolineo invece come in questo momento la Fiorentina secondo me qualora arrivassi in Europa sarebbe comunque molto molto buono e quindi io la Fiorentina la metto in una cosa per volta Megacarcazzo no perché non è una squadra da metà classifica voglio la Shespions no perché non è una squadra da Champions poi ci può anche arrivare ma al momento non lo è quindi la metto lì al centro Frosinone Frosinone culone no Frosinone lo vado a mettere in mando a Namo a parte che per me già il Frosinone sulla carta era una delle due squadre due o tre squadre più scarse della Serie A poi come se non bastasse ha perso Grosso che pareva dovesse andare a Marsiglia con Tudor che doveva andare alla Juventus e con Allegri che doveva andare al mare invece poi hanno perso tutto il lavoro e sono tutti rimasti a spasso ecco il Frosinone ha preso ha preso Di Francesco quindi se Ervino non lo reggi l'uva magna te la chicchi il Frosinone perderà le prime dieci poi Di Francesco verrà esonerato verrà preso Nicola e il Frosinone arriverà in Champions League no a parte gli scherzi parte da mando a Namo il Frosinone poi che faccia il miracolo e si salvi non è che è fuori discussione si può fare può capitare è il gioco del calcio la palla è rotonda se partecipi in Serie A hai le possibilità di arrivare ovunque magari a vincere lo scudetto no però hai le possibilità di arrivare ovunque però comunque io questo Frosinone ve lo vado a mettere in mando a Namo cioè è una di quelle squadre che secondo me lotterà alla morte per non retrocedere poi Juventus allora per quella che è stata l'ultima stagione io la Juventus la dovrei mettere in voglio la Shespions perché comunque perché comunque quest'anno ha fatto malissimo in Champions League uscendo ai gironi non si è riqualificata per i punti di penalizzazione avrà molte meno partite molto meno pesanti e va bene però proprio per il fatto che del fatto che non giochi la Champions per il fatto che c'ha le green panchina per il fatto che la Juve investe perché non è che non investe la Juventus prende sempre buoni giocatori discreti calciatori interessanti per il gruppo Juve per me la Juventus deve ambire allo scudetto cioè fa parte di una di quelle squadre che se non prendono lo scudetto parliamoci chiaro comunque è un mezzo fallimento poi se arrivi seconda se arrivi terza come dico sempre se arrivi quarta ci può anche stare è anche accettabile però comunque però comunque è sempre lì però comunque è sempre lì e quindi la vado a mettere scudetto e sto Bologna Bologna allora a me dispiace ma io il Bologna lo metto a un mega carcazzo non lo metto in una cosa per volta perché quanto ancora bisogna aspettare che il Bologna faccia una cosa per volta cioè il Bologna sono dieci anni da quando ha preso Mattia Destro che dice che l'obiettivo è quello di arrivare a giocare le coppe europee e non c'è mai arrivata per un motivo o per un altro ora Conti a Gomotta quest'anno ha fatto una dignitosissima stagione ed è arrivata nona ma io vi domando voi vedete il Bologna sopra il nono posto io faccio fatica cioè il Bologna può arrivare nono decimo undicesimo tredicesimo quattro fa parte di quel gruppone lì però poi le posizioni sono sempre quelle e quindi ho anche quest'anno l'impressione che il Bologna faccia un buon campionato un buon campionato un buon campionato ma che non si parli mai di Bologna in ottica europea e visto che negli ultimi anni è sempre stato così anche quest'anno mi sento di mettere il Bologna in quella posizione lì quindi in una posizione in cui farà un campionato sciallo qualcuno mi dirà vabbè siccome come fai a mettere Bologna e Cagliari sulla stessa linea perché secondo me alla fine il Cagliari sorprenderà da neopromossa il Bologna farà il solito campionato arriveranno a 6-7 punti di distacco ma l'andamento sarà sempre quello a mio avviso poi auguro al Bologna di arrivare in Europa glielo auguro però non lo so però non lo so ha fatto anche un buon colpo prendendo il centrae di difesa però boh regà vi dico la verità proprio non lo so Milan Milan scudetto e sto allora Milan scudetto e sto perché avrei senza troppi dubbi messo voglio la Cespions dopo la partenza di Tonali visto che il Milan nello scorso anno ha preso la Champions League per il rotto della cuffia per la penalizzazione della Juventus quindi per miracolo il Milan l'avrei messo in voglio la Cespions cioè arrivare in Champions sarebbe stato comunque un buonissimo un buonissimo obiettivo e un buonissimo raggiungimento qualora l'avesse presa però poi ha fatto un mercato di crisi ha cominciato a chiudere gli occhi a comprare a destra e manche ha preso secondo me tutti i calciatori interessanti che i rossoneri dovevano prendere quindi non mi sento di dare al Milan un piazzamento più in basso di scudetto e sto perché è chiaro come l'obiettivo del Milan da inizio anno sia quello di provare a rivincere lo scudetto poi può capitare che arriva secondo sì può capitare che arriva terzo sì può capitare che arriva quarto sì sarebbe un fallimento per Pioli no nessuno di questi piazzamenti perché sarebbero tutti posizionamenti raggiungimenti che ti permetterebbero di valorizzare i giovani che hai preso magari di venderne un a 100 e di ricomprarne altri 5 a 20 o altri 4 a 25 o altri 3 a a 35 32 33 milioni di euro e rinforzare la squadra questo è chiaro questo è lampante però comunque l'obiettivo secondo me di partenza del Milan sarà quello di vincerlo scudetto ecco forse l'unica squadra di queste che ho messo di queste tre che ho messo che non può arrivare quarta perché sarebbe un fallimento e forse anche arrivare terza sarebbe un fallimento è l'Inter perché per me l'Inter c'ha una signora squadra cioè per me l'Inter c'ha veramente una signora squadra Monza Monza lo metto in una cosa per volta perché il Monza l'anno scorso era neopromossa ed è arrivata comunque in una buona posizione quest'anno per me potrebbe migliorare la sua posizione arrivare in conference è difficile ci sono 7 squadre che sostanzialmente prenotano il posto che sono Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli Atalanta e Fiorentina 8 squadre anzi che prenotano i primi 8 posti e tu puoi infilarti in uno di questi però se arrivi ottavo non ci fai niente devi rubare il posto a due di queste che dovrebbero fallire o fare comunque molto male oppure tu devi fare molto molto bene per me lo può fare cioè non può arrivare magari in Europa è tosta arrivare in Europa con tutta questa concorrenza però secondo me il Monza potrebbe essere un outsider anche per il mercato che sta facendo anche per il percorso fatto da Palladino anche per come il Monza arriva a questa stagione per me è una situazione in cui il Monza può tranquillamente provare a lottare a sognare poi quello che arriva arriva e io questa cosa la voglio sottolineare quindi io il Monza lo vado a mettere in una cosa per volta per me fa parte della terza fascia di partenza delle griglie di partenza della serie A poi Genoa allora il Genoa lo metto in alla Sony indeciso lo metto in mando a Namo però non vi nego che secondo me il Genoa sarà una di quelle squadre che che si salverà o che comunque no non so se si salverà però avrà buone possibilità di salvarsi c'ha una buona squadra c'ha una società dietro parecchio importante c'ha un allenatore Gilardino che sa il fatto suo va valutata va valutata però non mi sento di metterla nella griglia nella seconda griglia che è la griglia delle squadre che stanno tranquille cioè il Genoa per me non sta tranquillo il Cagliari-Tranieri sì per me il Genoa non sta tranquillo secondo me si lotta si lotta la salvezza se la lotta la morte poi può essere pure che parte bene si salva a spasso può essere il campionato è imprevedibile però si lotta la salvezza e quindi credo che con Frosinone Empoli e Verona il Genoa faccia parte di quel range lì e qui chiudo ne mancano sette di squadre allora partiamo dall'Udinese l'Udinese è difficile l'Udinese è veramente difficile io l'Udinese la metto a mega carcazzo allora mi dispiace perché l'Udinese mi sarebbe piaciuto metterlo in una cosa per volta però secondo me l'Udinese nemmeno c'ha voglia di mettersi di far parte di una cosa per volta cioè l'Udinese secondo me non ha intenzione di arrivare in Europa perché se ci avesse intenzione di arrivare in Europa Pozzo i soldi ce li ha i Pozzo i soldi ce li hanno possono spendere un botto di soldi possono arrivare a comprare diversi calciatori sempre comunque rendendo il campionato il calciomercato dell'Udinese un calciomercato in verde non è che devi spendere e spandere completamente a caso però quella cosa lì la puoi fare quei movimenti lì li puoi fare quei campioni li puoi trattenere l'Udinese non si fa di questi problemi l'Udinese fa una stagione in cui arriva decima 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 magari un anno fa un posto in più un anno fa un posto in meno un anno fa due posti in più un anno fa due posti in meno però l'Europa non la prende mai la Conference non la prende in Serie B non rischia quasi mai di andarci a fine anno vende quei due o tre giocatori compra due sconosciuti e ricomincia da capo quindi personalmente io la metto al mega carcazzo cioè secondo me quest'Udinese non c'ha niente in più del Bologna c'ha un allenatore molto buono che è sottile così come il Bologna c'ha un allenatore molto molto buono che è Tiago Motta però poi finisce là e quindi per me Udinese e Bologna non stanno facendo una cosa per volta sono lì stazionate e io le metto in mega carcazzo ecco forse paradossalmente più il Cagliari può fare una cosa per volta step by step però il Cagliari si parla di Europa cioè il Cagliari deve salvarsi per me il mega carcazzo c'ha fare una stagione tranquilla quello è proprio il range lasciando perdere quello che c'è scritto della stagione tranquilla una cosa per volta il range dell'Europa o comunque di sognare l'Europa o di costruire qualcosa che in futuro porti all'Europa e quindi il Monza ci sta anche se se no me non ci andrà o comunque rischierà di non andarci la Fiorentina insomma ci può stare ci deve stare diciamo ci deve stare Napoli ecco adesso sono rimaste la prima innanzitutto in filo c'è la prima e la seconda dello scorso campionato Napoli scudetto e stop sì è vero è vero ha perso Kim è vero ha preso Rudy Garzia perdendo spalletti però Rudy Garzia non è l'ultimo dei coglioni che arriva a Napoli Rudy Garzia è un allenatore che sa quello che fa è un allenatore che sa come si allena è un allenatore che sa ciò che viene che deve portare in Campania c'ha una rosa forte c'ha una rosa lunga il Napoli è campione d'Italia l'ha vinto dopo 33 anni ma è campione d'Italia non l'ha vinto per caso il Napoli l'ha vinto distruggendo il campionato però anche per il Napoli mi sento di dire che se Rudy Garzia dovesse arrivare secondo sarebbe un fallimento no terzo no quarto no cioè il Napoli ha vinto lo scudetto ma adesso tu ti devi piazzare tra quelle quattro e ogni anno devi fare quarto secondo terzo secondo quarto primo terzo secondo secondo primo secondo quarto primo cioè devi alternarti cercando di vincere il campionato devi diventare un po' una sorta di Liverpool che è diventato negli ultimi anni tranne lo scorso anno che è arrivato quinto perché ha fatto una stagione pessima e piazzarti sempre o a vincere la Premier o nei primi posti ecco questo è l'obiettivo poi ripeto Milan Juve e Napoli se dovessero arrivare seconda terza e quarta secondo me per nessuna forse l'Inter arrivando seconda ci sta arrivando terza o quarta un po' meno soprattutto quarta però poi molto dipenderà dalle altre coppe che giocherà durante la stagione comunque detto ciò il Napoli per me parte per provare a rivincere lo scudetto poi i ragazzi tifosi partenopei mi diranno la propria opinione mi diranno ciò che pensano di questo Lazio nonostante la Lazio sia arrivata seconda io penso che l'obiettivo sia voglio la Champions la Champions la Champions Vig allora discorso qual è discorso è che la Lazio lo scorso anno non ha mai avuto l'obiettivo secondo me di vincerlo scudetto quest'anno non avrà l'obiettivo di vincerlo scudetto per quanto poi l'otito possa comprare secondo me la Lazio avrà l'obiettivo di replicare il sogno Champions parte in griglia dietro a Inter Juve Milan e Napoli però la Lazio è una squadra che può ambire a arrivare in Champions cioè per me in questo momento è sopra a Roma e Atalanta poi chiaramente se dovessimo parlare del fatto che la Lazio ha la Champions League da giocare quindi questa cosa potrebbe un pochino pesargli sulla schiena sono il primo a dirvi è la verità avete ragione cioè questa cosa gli pesa tanto alla Lazio non ha una rosa abbastanza lunga ha perso pure Milinkovic e Savic ma non ha una rosa abbastanza lunga da poter giocare Champions League campionato Coppa Italia e cercare di vincerlo scudetto di arrivare in fondo in Champions League o di fare molto bene di vincerlo la Coppa Italia però comunque secondo me l'obiettivo per cui la Lazio parte è quello di arrivare in Champions League questo è il mio punto di vista Torino allora 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 Torino lo metto in una cosa per volta allora il Torino più o meno staziona come una come un Udinese o come un Bologna cioè sono quelle tre squadre che anno dopo anno dopo anno dopo anno dopo anno dopo anno arrivano sempre in quella posizione lì va detto però che dal Torino negli ultimi anni soprattutto per merito di Ivan Juric ho visto dei miglioramenti importanti sia a livello di gioco sia a livello di ambizione cioè è passato quel tipo vabbè dai ma mi può andar bene arrivare dodicesimo tredicesimo adesso il Torino vuole prendere l'Europa e io non mi sorprenderei se il prossimo anno il Torino con le idee di mercato che ha con la voglia di spaccare il mondo che ha potrebbe lottare per l'Europa ora diciamo che è il più dubbioso se avessi dovuto fare una cosa fatta bene avrei dovuto mettere Torino con Udinese e Bologna però non so perché il Torino lo vedo un tassello più avanti e quindi lo vado a mettere una cosa per volta poi diciamo che il livello è quello però secondo me il Torino potrebbe fare leggermente meglio quest'anno sia di Bologna che di Udinese o comunque almeno alle griglie di partenza anche perché molti dei giocatori importanti che il Torino aveva li sta mantenendo e questa è una cosa fondamentale Lecce come al solito mi auguro che si salvi perché mi auguro veramente tanto che il Lecce riesca a centrare la salvezza mi sta molto simpatico però lo metto in mando a Namo cioè fa parte di quelle cinque squadre sono praticamente sempre cinque di solito le squadre quelle là che lotteranno per non retrocedere poi magari ci sta una sorpresa che vada giù eccetera può capitare magari riscendo il Cagliari magari non lo so non lo so però comunque secondo me le squadre il Lecce fa parte con Genoa Frosinone Empoli e Verona delle squadre che devono necessariamente cercare di salvarsi e non c'ha una rosa straordinaria ha perso diversi calciatori fortissimi perché molti titolari del Lecce dello scorso anno chi perché è scaduto il presido chi perché è stato ceduto chi perché eccetera eccetera se ne è andato lasciando il Lecce e non tornando quindi non lo so e non so quello che succederà il Lecce ha anche cambiato allenatore tra le altre cose quindi pure questa cosa la voglio vedere però comunque secondo me parte tra le cinque squadre che si devono lottare la salvezza Salernitana e Sassuolo la Salernitana la metto in megacarcazzo vi dico la verità penso che ancora non siamo pronti per credere che la Salernitana possa arrivare in Europa ancora un attimo mi serve ancora un attimo per credere questa cosa qui mi serve ancora un attimo perché la Salernitana fa i suoi investimenti ha le sue idee di mercato poi però credere che i Granata possano arrivare a giocarsi l'Europa League faccio fatica magari diamogli qualche anno in più magari non è ancora il Monza non è il Monza spende ma non come il Monza ha un progetto sicuramente solido quello di Iervolino ma non secondo me ancora come il Monza si salverà secondo me la Salernitana ha ottime possibilità di salvarsi ha ottime possibilità di rimanere in alto nel nostro campionato però comunque ancora non mi sento di metterla ha una cosa per volta quindi la lascio in mega carcazzo cioè una stagione piuttosto tranquilla certo un pochino ci avranno paura di retrocedere poi però si salveranno secondo me e come ultima il Sassuolo la vado a mettere in mega carcazzo Sassuolo che è un'altra squadra di quel tipo lì cioè Sassuolo è un'altra squadra che di base deve necessariamente deve necessariamente salvarsi ma si salverà a spasso un po' come quelle che vi ho citato fino a questo momento non avrà grossi problemi a mio avviso e a tutte le possibilità del mondo per centrare una salvezza tranquilla ho l'impressione che quest'anno fatichi un po' di più a me il Sassuolo piace sempre meno vi dico la verità ogni anno che passa il Sassuolo mi piace meno vende di più e compra calciatori che sono meno forti di quelli che comprava prima e punta sempre più su giovani sconosciuti quando una squadra mette in piedi un progetto di questo tipo io dico ok il Sassuolo può vendere frattesi però poi mi devi prendere un centrocampista che ok lo vendi a 35 compralo a 7 a 8 quando l'anno prossimo ogni giocatore a 50 compralo a 12 a 13 invece Sassuolo sembra che vada a comprare sempre i giocatori meno conosciuti che sicuramente li fanno fare più plus valenze però ogni anno perdi una posizione detto questo per me il Sassuolo comunque si salverà e fa parte delle squadre un mega carcazzo detto questo vi leggo per concludere la tier list ho messo a Mando Annamo Verona Empoli Frosinone Geno e Lecce un mega carcazzo Cagliari Bologna Udinese Salernetane Sassuolo Espios Swig Roma Atalanta e Lazio Scudetto e Sto Inter Juve Milan e Napoli fatemi sapere se condividete la mia tier list vi ricordo 4000 like e vi porto immediatamente il video nel quale ve le classifico per simpatia 5000 like e vi porto la tier list invece questa sarà un macello metterla in tier list sarà un macello delle squadre di serie B fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale io vi ringrazio vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto buon cialala e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao raga